E buon salve a tutti, benvenuti del centro, io sono Fino Toro e oggi siamo al secondo, mamma che sta uscire troppa roba tutta insieme, regà, noia, sto già a far più Comunque siamo al secondo episodio in ordine cronologico, per ora mi sto commuovendo, regà mi sto commuovendo, non voglio veramente, cioè non voglio gufalla, non voglio gufalla Ma forse, forse, forse riusciamo a tenere l'ordine cronologico, vabbè sto ruolando Monster Fu che l'hanno messo così a caso, che vabbè Ma forse riusciamo a mantenere l'ordine cronologico in sta quarta stagione, forse, forse, regà, forse, no diciamo, quest'anno portiamo sfide, forse E per quelli che me lo stanno chiedendo, sì ragazzi ho visto Shanghai, sì ho visto tutti gli spoiler che stanno uscendo Ma infatti ecco, altra cosa che non capisco, ma perché in sta quarta stagione ogni volta che viene detta mezza cosa, successivamente ci stanno altre 25 persone e fanno uscire 36.000 spoiler Non lo sto a capire, allora voi calcolate che comunque sto facendo sto video praticamente poco tempo dopo che è uscito l'episodio E già è uscito praticamente tutto quello che deve succedere in Gang of Secret, cioè è uscito tutto, è uscito tutto, clip, foto, cioè ormai sappiamo già tutto quello che deve succedere Non lo sto a capire, cioè non capisco, è una gara, stanno a fare gara per chi pubblica prima roba, il problema è che c'è stata una spoiler a tutto, vabbè Stavo dicendo per quelli che me l'hanno chiesto, sì ragazzi Shanghai arriva, arriva pure Shanghai, non vi preoccupate, solo che se me fanno uscire 15 episodi uno appresso all'altro Cioè è normale che devo sempre rimandare Shanghai, ma uscirà, pure quello uscirà, non vi preoccupate perché uscirà E nel mentre che esce, volete trovare il modo per sostenere questo canale? Iscrivetevi, mettete like, condividete il video, guardatevi tutte le pubblicità e se volete vi potete offrire un caffettino su Ko-fi Che se volete trovate il link in descrizione e un grazie veramente di cuore a chi l'ha già fatto, cioè raga veramente grazie, alcuni pure troppo, troppo grazie E tutti finalmente i convenevoli possiamo finalmente passare al secondo episodio della quarta stagione Che in realtà più che il secondo episodio potremmo definirlo la seconda parte del primo Perché il secondo episodio di fatto è il primo episodio, quello con Luca, infatti se ci pensate, cioè Luca, l'episodio con Luca si chiama la truth, questo lies, verità, bugie, eh? Mi sta a piacere questa cosa, mi sta a piacere Ed è ambientato nella stessa giornata ma tutto quanto visto dal punto di vista di Adrienne e Kegami Che anche loro hanno fatto la loro buone dosi di casini E infatti esattamente come nell'altro, l'episodio si introduce con Marinette che si sta impiccando a cercare di capire cose su sta Miracle Box, su sta scatola, sul mondo dei Miraculous Tiki non ci sto capendo più niente, l'enigma che mi ha lasciato il maestro Fu non ha senso Vabbè è normale, cioè si chiama enigma, se aveva senso non era un enigma, era una frase e basta E comunque è normale anche quello, perché il maestro Fu voleva proteggere i segreti della Miracle Box Se ho capito, mangiarei dovrei proteggerla io adesso sta palla magica Come faccio a proteggerla se non capisco nemmeno che cosa sto proteggendo? Ce la farai Marinette, del resto il maestro Fu ti ha insegnato tutto quello che sapeva Ah perfetto, quindi il nulla cosmico ti ha insegnato Ma infatti mi ha insegnato niente, non è che mi ha insegnato ad essere un guardiano Semplicemente un giorno mi ha detto, ah si tu un domani forse sarai un grande guardiano dei Miraculous E poi pa, battaglia finale, boom, vai con la promozione Non mi ha insegnato ad essere un guardiano, ma semplicemente ha mollato sta palla magica Ma il maestro Fu aveva grande fiducia in te, lui sapeva che saresti stata fantastica come guardiana Ok, grazie, va bene, grazie, questa cosa mi lusinga Ma diciamo anche che questa cosa detta dal maestro o meno maestro della storia dei maestri dei Miraculous Cioè, voglio dire che noi in teoria ancora non lo sappiamo perché dovrebbe arrivare tra tre o quattro episodi Ma già sappiamo che cosa succede in Monster Fu E scopriamo oltretutto che il maestro ha infranto tutte le regole, ma proprio tutte, ma proprio dalla prima all'ottocento e cinquantaduesima Regole sull'essere un guardiano dei Miraculous Cioè, proprio tutte, tutte, non ne ha rispettata una Lui, proprio lui, ha fiducia in me, che in teoria è anche lui la causa di tutto questo macello Che poi, proprio a tal proposito, raga, scusatemi, allora, facciamo finta che Monster Fu Non è vero, ho già fatto il collegamento, però vabbè, facciamo finta che Monster Fu per ora non esiste Però effettivamente, mi hanno fatto notare una cosa Che ve lo giuro, quando ho commentato l'episodio io non ci avevo minimamente pensato Ma perché, cioè, il maestro è riuscito a trovare Marinette appunto grazie al suo bastone magico che rivela i Miraculous Da quanto ci hanno fatto vedere, anche Fu aveva il bastone magico, rivela Miraculous Ma perché lui non l'ha utilizzato? Cioè, se quest'altro è riuscito a trovare Marinette con il bastone Perché, cioè, in 250 miliardi di anni, o almeno in tutto il tempo che Fu era perso il Miraculous del Pavone e della Falena Perché non ha mai pensato di utilizzare il bastone per ritrovare quei Miraculous? Cioè, io non penso che da che Fu se li sia persi, a che Gabriel l'ha trovati, forse, l'ha trovati, l'ha rubati, vabbè, insomma, sono entrati in possesso di Gabriel Cioè, perché? Cioè, avevi letteralmente un bastone che era una bussola che ti conduceva ai Miraculous Cioè, Fu, è possibile che in 800 miliardi di anni ti è mai venuta in mente una volta di utilizzare quel bastone? O me vuole di dire che Fu non sapeva nemmeno davvero sto bastone? O che cosa fosse sto bastone? Te l'ho detto, è un impedito Ma lo so, lo so, lo so, lo so che l'ho impedito, lo so, sempre saputo, sempre detto, lo so Io dovrei essere la degna successitrice di uno che non ha mai pensato di fare la cosa più logica del mondo Cioè, avevi un tomtom per i Miraculous e non ti è mai venuto in mente ad andarli a cercare dopo che te li sei persi Bravo Fu, bravo, grande Fu Allora, S, S, allora, senti, allora, io cercavo un attimo di ratti su De Morale Perché qua l'episodio deve, cioè, manco è cominciato e già finisce se cominci così Me la fai una cortesia? Cioè, te prego, me la fai sta cortesia? Ti dici un attimo su De Morale, anche perché qua l'episodio deve cominciare Cioè, è una volta che non c'è un episodio completamente dedicato a te, veramente vuoi avere tutto sto monologo E dai, su, hai ragione Lo show deve continuare Mari, fammi una cortesia, cioè, finché c'hai ste bestioli dentro a casa, spegni il computer Tieni lo sprint, perciò, fanno solo danni, spegni sto computer E bentornati, gentili telespettatori, a un esclusivo reportage sulla vita di Adrienne Crest L'unico, a quanto pare, ragazzino, barra celebrità, che ci abbiamo in tutta Parigi Tanto da dedicarci un intero reportage Chissai quali incredibili entusiasmanti Mozzafiato Avventure ha vissuto il nostro minorenne più sfruttato di tutta Parigi Nei suoi incredibili 15 anni di vita Dopo la pubblicità lo scopriremo insieme Adrienne No, Mari, oh, non ti far prendere dall'emozione perché te stai a guardare Adrienne in tv Ma raga, scusate, possiamo soffermare un attimo la nostra attenzione su sta cosa? Allora, come tutti noi ben sappiamo, Vincent, il fotografo di Adrienne, è italiano Cioè, almeno ci hanno sempre fatto capire che è italiano La frase successiva Perfetto, incredibile Mozzafiato, oh mio Dio Avrei bisogno di un sorriso più al dente Raga, dice proprio così Al dente, al dente, al dente Ma perché? Cosa c'entra? Ah, ma me è a pezzeria Wow, devo avere una vita veramente fantastica Sì, perché tu invece ce l'hai ordinaria, vero sorella? Che giornata di me Finalmente è finita, sono libero E uno pensa, ragazzo dei 15-16 anni, comunque sai, quando è libero, ha finito di lavorare, ha finito di fare tutto Non lo so, si metterà a giocare ai videogiochi, uscirà con gli amici Si metterà a leggere, a guardare la tv, a disegnare, che ne so Lui, per sono libero, intende, si trasforma, esce e cioè, praticamente va a fare una pattuglia Quindi di fatto, lui comunque, cioè, raga, sta praticamente continuando a lavorare Allora, lo so che pure nell'altro video mi sto a dilungare un sacco su alcuni dettagli Che magari mi sto a flashare io, perché assolutamente magari mi sto flashando io Però, e probabilmente lo farò pure in sta puntata Però, posso dire una cosa Sta cosa di Adrienne, che nel momento in cui dice Oh, finalmente sono libero, diventa Chat Noir E c'è tutta sta scena di lui che vola tra i palazzi di Parigi E comunque va in giro, aspettando la debug Ma la debug non arriva E chissà che sta facendo la debug in questo momento, vero Mari? Stavo dicendo, sta cosa che comunque Adrienne, per sentirsi libero, si trasforma E diventa Chat Noir E questa cosa è ricollegata anche con una frase che viene dopo, che poi però ci arriviamo Si ricollega a una, cioè, teoria, barra affermazione, barra cosa che avevamo intuito tutti Nella prima, barra, seconda stagione più o meno Sul fatto che comunque Adrienne utilizza Chat Noir per liberarsi Per sentirsi effettivamente libero, per sentirsi se stesso Perché ovviamente Adrienne Agrest, cioè, è sempre una facciata in un certo senso Deve mantenere quel tipo di facciata Che poi però si infrange nel momento in cui diventa Chat Noir Perché appunto la maschera lo protegge, diciamo così Sta cosa è bella, regà Perché sto concetto che comunque Ladybug e Chat Noir si sentono liberati Delle loro inibizioni, diciamo Nel momento in cui diventano supereroe Ladybug magari un pochino di meno Chat Noir è proprio tanto Lui si vede proprio tanto sta cosa È bella che l'abbiano ripresa Perché avevo fatto caso che in realtà era tanto presente nella prima stagione Nelle altre due era andato un po' a perdersi Perché, vabbè, nella seconda comunque sai cosa? Era più concentrata su... Su la presenza di nuovi personaggi, nuovi eroi Quindi ci può pure restare Comunque la seconda stagione è una stagione di transito, diciamo così Perché appunto tu introduci nuovi personaggi La terza, vabbè, la terza sapete come la penso È stato proprio un patatrack allucinante La terza stagione ignobile E non mi sembra comunque che sia stata mai effettivamente marcata più di tanto sta cosa Anzi, la terza stagione è perfettamente, non lo so, sorvolabile su sto punto di vista Che tu però mi riprendi sto concetto Nella quarta stagione Che da come ci hanno fatto capire comunque La quarta stagione è quella più psicologicamente pesante Con i nostri due personaggi Perché già lo stiamo vedendo da questi primi due episodi Che comunque comincia a pesare a loro il ruolo che hanno in quanto supereroi In quanto essere la nuova guardiana In quanto lui comunque si rende conto pure lui Un po' più a caso rispetto a Marinette Però vabbè Però si sta rendendo conto pure lui Che il far combaciare una vita privata E una vita sentimentalmente più attiva Perché ricordamose che in teoria lui adesso sta con Kagami Ma c'è ancora sta mezza gottarella Sto mezzo debole per Ladybug Perché sì È impegnativo E ora più che mai Adrienne Ha bisogno di sfogarsi Ha bisogno di evadere Di essere libero Cioè come se Shanwara Di fatto per Adrienne fosse una sorta di valvola di sfogo Tant'è che addirittura A parte che cercare in maniera compulsiva Vabbè la compagnia di Ladybug Ma vabbè Cioè lui va in giro per la città A cercare agumizzati Cioè va in giro Ma perché? Perché? Cioè la banana Perché? Va in giro per la città A cercare agumizzati Cerca di convincere le persone Il tipo E tu mister Piccio Cioè dai Non t'arrabbi Niente 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 Proprio in sta stagione Ancora non ti sei arrabbiato? Mi pare strano Dai su Vabbè Fatta agumizzare subito Così magari ti dai il dente Per tutta sta stagione Stai almeno nei prossimi 20 episodi Tranquillo Non ti rompe le scatole nessuno E dai Dai e dai e dai Ah no guarda Oggi io in realtà Sto a posto Sto tranquillo Sto bene Cioè nel senso Bella giornata Bello tutto Tutto ok E qui ci ricolleghiamo Al grande tradizionalismo Desta serie Perché sto ragazzo Il Maina Gioia Cioè sto ragazzo È proprio il Maina Gioia Totale Completo Sempre Perenne Perché ricordavo Se Adrienne Oltre ad essere il minorenne Più sfruttato Di tutta Parigi È la personificazione Del Maina Gioia E ormai stufo Saturo Di tutto questo Affoga i suoi dispiaceri Nel latte No Adrienne No Uno Non è un buon esempio Da dare ai bambini Due Non si fa Non si fa Quello che cerchi Non è sul fondo Di quel bicchiere di latte Oh ma fermi tutti Arriva Cluè Oh si Dai e dai e dai Vai Cluè Vai 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 Incavolate Dai per ad essere qualsiasi Ma incavolate Dai te prego Vai 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 Cluè Confido in te Dai dai Cluè Confido in te Io non ci posso credere Che hai perso La mia borsa preferita Cluè sta là Cioè Sabrina Una cosa dovevi fare Una Tenere d'occhio la mia borsa Ti sei riuscita a perdere La mia borsa preferita A parte il fatto Che stanno la tua borsa preferita Cioè è tipo la prima volta In assoluto Che t'avete addosso Però come Cioè sta là Eccola No zitta Silenzio Mi hai deluso Quattro occhi Ma hai estremamente deluso Dai Eccola Mo arriva la cuma Chat Cioè io capisco tutto Ma non è bella Come cosa Che tu speri Che la gente Sei in cavoli O che soffra Perché almeno così C'è qualcosa Da fa durante la giornata Lo voglio dire Provate no Amore mio E a proposito Non mi cominciate A scrivere nei commenti Ah lo vedi Cluè Continua ad essere La spocchiata No regà No 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 Perché qua Cluè È stata solo Unicamente un personaggio Che ha fatto comodo Per la situazione No No ragazzi No Cluè avrà la sua grande ribalta In cui imbanana Quindi No No Giustizia per Cluè No Non mi scrivete cose brutte Di Cluè nei commenti Perché va Vemino Regà Vemino Vedo il totò Cluè merita tanto amore E se merita pure L'occhialimo che ci penso Perché Oh guarda Eccola la mia borsa Vabbè Te la sei scampata A sto giro Te la sei scampata Oh Prendi il bicchiere grande Non pensi che magari Stai esagerando Da zitto Io non sono Briaco Tu non sei Mia madre Io non ce l'ho più Una madre Sta sotto vuoto Mia madre Avrei un padre In teoria Ma non mi ricordo nemmeno Se abita più con me Non lo so Non lo vedo mai Ma c'ho una potenziale Matrigna Che è una cosa Fantastica Perché Dove pure lei Sta un pochetto Male Male Chat Amore mio Però Manco a far così Non è una bella cosa Trovate Nobby O meglio ancora Hai trovato Kagami Che continua ad essere Addestrata Proprio con Con un senso Di rivalità Ma è leggerissimo Devi essere più rapida Se vuoi essere migliore Di Adrienne Adrien Non ti preoccupare Ho tutto sotto controllo Sai cosa Ma invece sta in giro Per Parigi Come indiscraziato Ma perché io non faccio Qualcosa in più concreto Tipo ricordarmi Che c'ho una fidanzata Buona idea Adrienne Buona idea E plug Qui ci ispira Con un'altra Delle sue frasi Che sono simbolo Di ispirazione Nel corso Della storia Ragazzino Sono anni che vai appresso Sempre alla solita Fetta di formaggio Ma ti stai scordando Che esistono Un sacco di varietà E alle volte Possono rivelarsi Essere fantastiche Nei libri di testo Scolastici Accanto a Dante Ligieri E accanto a Shakespeare C'è plug Con le sue grandi Grandi citazioni Grazie maestro Grazie E mantenendo Il simbolismo Del formaggio Che fa me capisco Ragazzino Cioè questa è la cena Questa è la sua Ma lo fa Ma non si fa tutto Mamma mia Mai una gioia Sto ragazzo Mai una gioia E mai una gioia Pure per noi Perché l'unico modo In cui Oh regà Regà Allora L'unico modo In due episodi A ora E anche lo speciale Perché pure nello speciale L'abbiamo tipo Vista così Tata Che ci hanno fatto vedere Natalie Cioè questo è stato Ormassimo Questo è stato Ormassimo Ce l'hanno Manco ce l'hanno Fatta vedere Ce l'hanno fatta sentire Lei che chiama Adriani Dice sì ok Ho prenotato la palestra Per la tua lezione Gabriele Allora Te l'ho già detto Nell'altro episodio Non me la fai più vedere Cioè ritorna a essere Veramente il tuo sgherro Così di secondo grado Che vediamo una volta Ogni morte di papa Come nella prima stagione Tutto questo Perché te sei aggiustato Ter miraculus del pavone Che comunque Riformulo Rimani un impedito Ad utilizzarlo Se ora Non me fai più vedere Natalie Perché te sei sistemato I miraculus tuoi Oh regà Regà No Io me cavolo Io me cavolo Nessuno può mettere Natalie In un angolo Io mi voglio augurare Che al momento Non ce la fanno ancora Vedere o non la fanno Rientrare in azione Ancora con la scusa Che si è appena ripresa Perché stava Ma io voglio augurarmi Che sia così Che pure Nello speciale di Shanghai Ce l'hanno fatta vedere Non ce l'hanno fatta vedere Praticamente Non famo che mi metti Natalie In un angolo Gabriele Gabriele Anche perché guarda Hai dimostrato Che sei impedito Comunque utilizzare Tutte e due I miraculus Quindi Te serve Natalie E a proposito Rimaniamo sulla linea d'onda Dell'ormone impazzito Perché Raga Asce Asce la successione Che cacchio Andiamo avanti I ragazzi arrivano a scuola E oh no Ma davvero Siamo così In anticipo Di un'ora No Mannaccia Oddio Ci siamo sbagliati Orario Mannaccia Vabbè Non c'è problema Ci mettiamo in un angolino E stiamo buoni Buoni là Non c'è problema Aspettiamo che la lezione Inizia Laura di arte Eh sì Ho capito Ma non c'è nessuno Cioè Woda Ci siamo solo noi Che dovremmo fare Qua dentro Beh Cioè Due quindicenni Che stanno da soli Dentro una stanza Cioè nel senso C'hanno un'ora libera Che se può fare Quanto è ingenuo sto ragazzo Ma quanto è ingenuo sto ragazzo No non è vero Non c'ho tutta sta malizia In realtà non l'ho mai detto a nessuno Ma adoro disegnare E sei anche brava Complimenti Voglio disegnarti Dai Mettiti Mettiti in posa Una posa naturale Mmm Questa non mi piace Mettiti in un'altra posa Una posa Una posa naturale Ma deve essere bellissima Deve dimostrare Quello che tu hai dentro Caga Però Cammina Voglio dire Calma Tipo così No Adesso è una cosa più naturale Naturale Ah Tipo così Cioè questo è deficiente Cioè complimenti Adriana Cioè antisgamo Ma è grandissimo No ma in quale universo Una posa del genere Potrebbe essere naturale Ma sono io Cioè te lo giuro Questa posa Sono veramente io Cioè no ma per carità Cioè a questo punto Di io lo muovo Trasformati davanti a lei Cioè ma No non lo so Cioè dai Continuiamo No Questo sei tu che stai facendo il pagliaccio Venga allora Uno Stai calma Due Beh magari Essere un pagliaccio È il vero me E questo si ricollega pure a quello che dicevamo prima Regà Beh beh Oh ma perché stagione Stagione vi stanno a fa bene I cose Ma mi voglio allargare Ma almeno sti due episodi C'hanno senso Sono fatti bene Si ricollegano bene Che lui con Chat Noir Riesce a dimostrare Chi è il vero io Cioè Bello Ci piace Ci piace Vai bene Ma cagami Non è convinta Madonna però con sta faccia Cioè Adè Mo te mena Tappiccica il muro Te mena T'ammazza Ma diciamo Sì Tappiccica il muro Però Non Non come ci aspettavamo tutti Oh oh Mori Ma che Oh ma che Oh gli è partito l'ormone a cagami Così Pamm Che è successo È il fascino di Chat Noir Il fascino di Chat Noir Anche senza la maschera Sempre il fascino di Chat Noir Oh cagami ha deciso Che sto limone Non glielo leva nessuno Che cavolo Grande ragazza Cioè oh rispetto a Luca Sei più decisa Questo mi piace di te E E E Dopo tre stagioni Ha detto No basta A me sta limonata Non me la leva Nessuno Ci stiamo L'ho bloccato È mio T'ha salvato la campanella Adria Guarda T'ha salvato la campanella T'ha salvato la campanella Però niente Anche durante l'ora di schermo Ormai a cagami Gli è partito male l'ormone E ha deciso Che sto bacio Sa da fare Cosa invece Che La pensano levemente Diversamente Sono i 5 miliardi Di acumizzati Che Papillon ha acumizzato Nel corso della puntata Pure precedente Che Tutti mo Tutti mo La cosa divertente È che L'avevo già detto pure Nell'altro video Papillon aveva appena Riaggiustato Il miracolus del papone Quindi dici Non è che dici Sai Ha provato a acumizzare Due o tre persone Così per fare una prova No In una giornata Ha acumizzato 15 persone Tra cui Il primo è Mr. Pichot Quindi Adria Ecco Desiderio Realizzato Mr. Pichot Oppure Quando non se ne rende conto In compenso Però c'è messa Ladybug A rompergli tutti i denti Mamma mia Che botta Che ha dato Questo poraccio Carretto Dei gelati Degli innamorati A ritagliero Sto gelato Eppure qui Acumizzato Gigante Dietro di loro E nessuno Se ne accorge Ma proprio Minimamente Che io comunque Non è che voglio dire Cioè Allora Luca Se n'era appena andato Era appena successo Sta scena Mo È arrivato Adrienne Gli ha dato il gelato Se n'è andato pure lui André Io non tu vorrei dire Mamma mia Sa che i gelati Due portano sfiga Ciao Ciao Ci vediamo domani Ciao ragazzi Ci vediamo domani Dai che sto bacio Dai Mo Mi da falla contenta E su E baciala No Agu Ma chi si è incavolato Sto giro Chi si è incavolato Io mi sto incavolato Concetto dei kitty section Adrienne Dai dobbiamo andare Ciao ragazzi Ci vediamo domani Oh Che è successo Troppo affetto Tutto insieme Che cazzo Cioè Si è rotto Adrienne Troppe tempeste ormonali In una giornata Che cavolo A proposito Qua introduriamo un altro discorso Adrienne perde il portafortuna Che Marinette Gli aveva regalato E lo prende Kagami Che non glielo ridà subito Alcuni hanno cominciato a dire No perché in realtà Kagami sospetta Di lui e Marinette Che magari potrebbe Ma secondo me No regà Cioè la differenza È che Luca È perfettamente consapevole Che Marinette Comunque È innamorata Ad Adrienne Ma in realtà Quanto pare Tutti ne sono perfettamente Consapevole Tranne il povero piccolo Casco di banane Rincoglionito Tutti lo sanno Pure Kagami Perché pure Kagami Però la differenza Sta nel fatto Che ricordatevi comunque La stagione precedente Quando Marinette Ha rinunciato ad Adrienne Per lasciarla a Kagami E Kagami l'ha detto Marinette è la prima È l'unica amica Che abbia mai avuto Lei è importante per me Ma non gli lascerò a Adrienne Secondo me La differenza Tra Luca e Marinette E Adrienne e Kagami Sta nel fatto Che ve l'ho detto Luca è consapevole Che Marinette È innamorata di Adrienne Ma non è quello Che a lui dà fastidio Kagami Non è che è consapevole Che Marinette Cioè non è che è consapevole Che Adrienne È innamorato di Marinette Però le dà fastidio Il fatto che Adrienne Le menta Che non le dica Completamente la verità Ma non riguardante I suoi sentimenti Nei confronti di Marinette O nei confronti Di un'altra potenziale ragazza Proprio in generale Che alla fine Effettivamente Luca e Kagami Sono quasi due facce Della stessa moneta Quasi Anche perché Luca Viene akumizzato Perché c'è rimasto male Del fatto che Marinette Comunque Non sia totalmente Sincero con lui Io sta cosa L'avevo mezzo spiegata Anche nel video precedente Kagami è più ferita Dal fatto che Adrienne Sembra quasi Che la stia evitando Cioè rispetto a Marinette Che comunque Se ne va Per Va a capire il motivo Ma comunque Lei passa del tempo Con Luca Kagami invece Ha quasi l'impressione Che Adrienne La stia proprio Appositamente evitando Anche perché Cioè porca miseria Tre volte Tre potenziali baci Tre volte Tutte le volte Lui se ne va Capiamo pure il punto Di vista di Kagami Lei non sa niente Ovviamente Quindi dice Perché Perché mi stai evitando C'è qualcosa che non va C'è qualcosa che mi devi dire Perché non passiamo Più tempo insieme Ma non ti preoccupare Passeremo il tempo insieme Al compleanno del principe Alì Sì Tu sperace Che indovina Chi è stato Accomizzato In quel preciso istante Tu non mi ami Vero? Eh? Hai detto qualcosa? Eh no scusa Mi sa che mi sono perso Un pezzo di qualcosa Boh non lo so Ci vediamo direttamente Alla festa eh Dai porella Rega Morella Dai su Cioè Ma dai Morella C'ha capitala pure Sta poraccia Dai su C'è proprio tenerezza Che lei arriva alla festa Ma non dovevi venire Con Adrienne Ehm Sì È stato un attimo Fermato da dei paparazzi Per un'intervista Eccolo Lo vado a riprendere E sta poraccia Passa tutta la sera Rega tutta la serata Sulle scale Ad aspettare Quest'altro Che ne mentre Se fa tutte le sue Chiacchieratine Flirtanti Con Ladybug Ma dai Morella Su Cagami Eccoti Non ti ho fatto aspettare Troppo vero? No Si è solo fatta notte Nel mentre Cioè Magari niente ne sei accorto Ma sai com'è Era giorno Quando sono arrivata Ora è notte Cioè Poi c'è 5 minuti Che sto qua Non ti preoccupare Poi minimamente Piuttosto Hai ritrovato quello Che ti hai riperso? Che m'ero perso Si sai com'è Sei tornato indietro Perché dicevi che ti hai Riperso qualcosa M'ero perso Ah si 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 Assolutamente Si 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 Assolutamente L'ho ritrovato Tutto a posto L'ho ritrovato Grazie Bene Che cos'era? Che cos'era cosa? Cosa ti hai riperso? Cosa? Ah mi ero perso Il Sai Il portafortuna Che mi ha regalato Marinette L'avevo per Ma dov'è? Oddio L'ho perso Oddio L'ho perso Di nuovo Tu intendi Questo? Oh ma De tanta roba Che c'hai Adriano Ma proprio quello Cioè L'unica Quello Mannaggia La miseria Cioè Proprio Fantastico Ascolta Anch'io mento In continuazione Mento sempre a mia madre Per poter stare un po' con te Lui ho anche mentito Per poter stare un po' di tempo Con te stasera Mento sempre Ogni singola volta Per poter stare Un po' di tempo Con te Ogni singola volta Siamo entrambi dei bugiardi La differenza è che io Tutte le volte Mento Per poter stare con te Tu invece menti Per non stare con me Kagami Aspetta Ho bisogno di stare da sola Cioè Dai Regà Porella Ma Porella Ma dai Porella E tanto per fare una cosa nuova Arriva Ah no Scusate Shadow Moth Che ancora non si è stufato Di agumizzare gente a caso E quindi Ma sì Ma dai Agumizziamo pure Kagami Che c'è frega Tanto non avevo agumizzato nessuno In un episodio Kagami diventa Lice Alias L'omino del Gavis Della pubblicità del Gavis Con In grado di lanciare Kamehameha In grado di far dire Sempre Unicamente la verità Alle persone Che proprio Che ci penso sarebbe stata Una cosa spettacolare A parte Jagad Che sta qua Cioè Fammi capire Com'è andata la cosa Luca è stato agumizzato Tu hai capito Di avere un figlio Cioè non hai capito Di avere un figlio Ti sei reso conto Che tuo figlio è Mievi mente Adirato Ma proprio Mievi mente Adirato con te Per il fatto che L'hai abbandonato Quando era piccolo Fatto il concerto E poi dopo Andato da Luca Che è successo Cioè Jagad Pure te È una giornatina Impegnativa Comunque Comunque il potere Di Lice è quello Di pietrificare Chiunque abbia mentito E Parigi È piena Zeppa Così di bugiardi Compresi i nostri eroi Soprattutto I nostri eroi Però loro mentono Per il bene Dai su Le bugie bianche Valgono E dai 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 Su Non è che si può dire Poco tutto 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 Arriva Ladybug E il Lucky Charm Del giorno è Una scatola Con un drone Dentro Ok Beh certo Effettivamente È un oggetto Un oggetto Non può mentire Quindi di conseguenza Possiamo utilizzarlo Per vedere se la gente Sta bene All'interno di quella Palla magica Fosforescente Comunque Non da dire allora Cioè Papillon non sarà un genio Ma pure Okagami Cioè Mica c'è scherza O io di Chat Noir Che si mette lì A cominciare a dire Uh uh Non mi chiamo Chat Noir Non sono un supereroe Odio morte Ladybug Papillon si fa chiamare Poundfly Vabbè E l'Isa Comincia a fare Un bugiardo Un bugiardo patologico È come tutti gli altri Ma sì Vai Vai addosso Vai Ma sì Ma sì Perché non è Mica per niente La trappola No Du geni raga Du geni Veramente Dio li fa E poi la coppia Anzi no Papillon li fa E poi la fuma Le accoppia Comunque Tanto che Chat Noir Porta l'Isa Il più lontano Possibile Ladybug capisce Che gli oggetti Del giorno Sono Non solo La torta Ma il coccodrillo Di Jagged Perché è un animale Gli animali Non possono mentire Quindi Quello che ci serve È il coccodrillo Ma sei scema Vuoi far sbranare Il cagami Da un coccodrillo Cioè Ma ho capito Che la situazione È estrema E che comunque Bisogna Farcare di fare Il possibile Per bloccare La gubizzata E che comunque Il tuo lachisharm Può riportare Tutto a posto Ma porca miseria Ma sei matta Ma no Ma il coccodrillo Non si mangia Kagami Perché il coccodrillo Vuole la torta E utilizziamo la torta Come esca Per portarla Da kagami E fargli mangiare Il lachisharm Sì il lachisharm Per fargli mangiare L'oggetto aggumizzato Che poi perché Un coccodrillo Dovrebbe mangiarsi La torta E poi perché Dovrebbe mangiarsi La torta E come ha fatto A liberarsi Se ha passato I precedenti 4 minuti A saltare A cercare di prendere Anzi a capire Vabbè Non facciamoci domande Anche perché In tutto questo Scello Per scappare Cioè Si sta letteralmente Battendo Tutta Parigi Ma letteralmente Sono rimasti Solo due bugiardi In tutta Parigi Mileti Hai proprio finita Parigi Cioè nel senso 2,161 milioni Di abitanti Sono tutti fermi Immobilizzati Anzi no Anzi no 2,159 mila Perché rimangono Solo due bugiardi In tutta Parigi Mileti Chanel no Devo fare Quello per cui Sono stato scritturato Ossia Sacrificarmi Per te Mileti No Chanel no Sei pazzo Sì Sono pazzo Per te Mileti Affascina Te sei Incastrato Da solo Pirla Ma che poi Fermo un atto Cioè Chanel si è buttato Letteralmente Nel vuoto In teoria Comunque Il raggio Di Lice Immobilizza E basta Giusto Ok Tutti d'accordo Ma lui stava Su un tetto E a sua volta Stava più in alto Perché stava Su un bastone Si è lasciato cadere A peso E' morto E' morto Cioè Tipo la quarta volta Che muore Chanel nel giro I tuoi episodi E' morto Ragazzi Si è sfragassato A terra E' morto Pur mettendo Sti cavoli Prenditi Il miraculus Oh e Lice è un'altra Di quei cattivi Che porca la miseria Cioè Stavano là Aveva il miraculus In mano Eccolo Con una lentezza Allucinata Levagli St anello Dai No ma li odio Li odio Quando fanno così Levagli St anello Dai Cioè stai Porca miseria Te quell'altra Porca Come si chiamava Double maker Come si era Double maker Oh una lentezza Ma una lentezza Cioè il miraculus In mano Muoviti No abbiamo dovuto aspettare Oh guarda Una fetta di torta Da dove è uscito Una fetta di torta Oh guarda Un coccodrillo Porca miseria Un coccodrillo Che poteva staccare la gamba A cagami Mari Cioè Troppo Troppo Anche troppo Se poteva mangiare a cagami Troppo No Eh no Gabriele Sei impedito Te l'ho sempre Cioè il problema Non è il miraculus Non è che usi 15 miraculus Insieme Allora sei più fo Sei tu che sei una pippa Sei impedito Te serve Natalie Te l'ho già detto Te serve Natalie Oh arriviamo a un altro punto fondamentale Desta puntata Allora Nella puntata precedente Ben o male Dopo che Luca è stato agubizzato Marinette Sì vabbè Marinette Ha avuto l'accortezza Almeno di parlargli subito Almeno se non subito Perché in teoria Questo è stato Nel mezzo Quindi poniamo caso Che comunque Luca Pure è stato bloccato Dall'ice Vabbè Diciamo che è successa Un po' di roba Nel mentre Però Almeno Marinette Ha avuto l'accortezza Di parlargli Subito dopo Cioè In quella stessa giornata Adrienne Eh no Adrienne È rimasto In un vicolo A quanto pare Per tutta la serata Pensare a quanto sia Fantastica Ladybug A quanto sia Affortunato Lui ad averla E cose E E Koagagami L'affronta Il giorno dopo Quindi Cioè Lui Non le ha parlato Non le ha detto niente Non le ha scritto Non le ha mandato un messaggio Non gli ha detto no E giustamente Perché Te dico Giustamente Questa È un pelo Cattivo Ma proprio un pelo Ma po Pochissimo Cioè Ma proprio Poco Cioè Non è incaulata Per niente Koagami Ma no Cioè è l'impressione Regà Non è incaulata Koagami Cioè Non è attirata Manco per niente Koagami No È l'impressione Regà Assolutamente È l'impressione Mi dispiace Se ti ho ferito Koagami Tutto il tempo Che abbiamo passato insieme Non era una bugia Lo so Lo so che da questo punto di vista Sei onesto Quindi Possiamo rimanere amici Pienzone Dai E così Bene Come potrei fidarmi Di qualcuno Che mi mente di continuo Quando sarò pronta Ti verrò a cercare E te posso dire Che pure qua Comunque C'ha ragione Cioè c'è Dedi C'ha ragione Sai qual è la differenza Tra noi due E il resto del mondo Milady Che possiamo essere Completamente onesti Gli uni con gli altri Abbiamo i nostri segreti E spesso dobbiamo mentirci Ma sappiamo Che possiamo fidarci L'uno dell'altra Bella sta scena finale Bella Allora In realtà Una cosa del genere Si ricollegava Anche all'episodio precedente Parliamo delle scene Letty Noir Pure nell'episodio precedente Quelle due scenette In particolar modo Quelle sul tetto del palazzo Quando attacca Mister Piccio E quella successiva Dopo che Luca Viene agumizzato Non lo so ragazzi Mi sembrava Un attimo Buttata Così a caso Nel senso Mi sembravano due scene Almeno nell'episodio precedente Mi sembravano due scene Letty Noir Buttate a forza In quello che era Un contesto a Luca Net E infatti Non lo so Mi storceva un pochetto E invece Vedendo la puntata così Cioè diciamo Vedendo la giornata A 360 gradi Mi sono resa conto Di quanto ci siano Effettivamente bene Perché appunto Visto che è stato inserito Questo tipo di finale Ossia il fatto Che le bug e Chat Noir Si rendono conto L'uno Cioè Entrambi si rendono conto Quanto sia effettivamente Difficile far combaciare Che poi l'ho detto Anche nell'altro video Il problema Non è mai stato effettivamente Il far combaciare La loro vita normale Con la loro vita privata Adesso il problema Sarebbe stato Il far combaciare Una vita sentimentale Che è diverso Comunque Con la loro vita Da supereroi E cioè Non è che è pesante È complicato Perché appunto Come abbiamo visto In anni gli episodi Avere un fidanzato O una fidanzata Vuol dire avere una persona Che vuole stare Ma non dico tutto il giorno con te Ma buona parte Del tempo con te Vuole spendere Tanto tempo con te E con una vita da supereroe Comunque È difficile È complicato Soprattutto se non puoi essere Totalmente anesto Con Con l'altro E queste due scene Che sembrano buttate così In maniera un po' Randomica O che comunque Non portano a niente Cioè Queste due scene così Lady Noir Sono belle Perché appunto Si ricollegano A questo discorso finale Il fatto che alla fine Lady Bugga e Chat Noir Volenti o non è enti Che comunque Si è vero Si devono mentire Spesso e volentieri Non Hanno diciamo Delle complicazioni Anche tra di loro Ma Su questo punto di vista Possono essere Completamente onesti Gli uni con gli altri L'una con l'altra Perché Perché Hanno i loro segreti Sanno perché Devono mantenere Il loro segreto E al tempo stesso Appunto perché Sono uguali Possono essere onesti L'una con l'altra Bella sta cosa Mi è piaciuta Veramente un sacco Onestamente Una cosa che spero È che In realtà Questi due episodi A quanto pare Hanno troncato Sia la Luganet Che la Adrigami Però una cosa che spero Veramente tanto È che Non sia la morte Completa Di questi due personaggi Perché Veramente Mi sembrerebbe Che Sono stati sfruttati poco Allora in realtà Da quanto si è capito Hanno dichiarato O almeno hanno detto Che non sarà L'ultima volta Che li vediamo E mi era venuto un dubbio Kagami quasi di sicuro La rivedremo Perché comunque Ricordiamoci Che la madre di Kagami Ha un impiccio Con Gabriel Quindi Di sicuro Kagami prima o poi Ritornerà O almeno comunque La madre di Kagami La rivedremo E di conseguenza Anche Kagami Luca Io non so perché Lo dissi anche Nell'altro video Secondo me Sarà una figura Portante O comunque Sarà una figura Parecchio fondamentale Per quella Che poi sarà La dichiarazione finale Di Marinette Per Adrienne O comunque Già lo dissi Io l'ho detto Anche nell'altro video Secondo me Quel Io sono Ladybug Che si sente nel trailer Marinette Lo dice a Luca Secondo me È così Secondo me Luca È il primo Che scopre La vera identità Di Ladybug Che poi Magari Non lo so Servirà un domani Un futuro Comunque A Ve l'ho detto A far avvicinare Ancora di più Adrienne E Marinette Perché Perché magari Non lo so Situazione di pericolo Luca sapeva Che Marinette È Ladybug Quindi Ladybug È in pericolo Luca Che strilla Oddio No Marinette Chanoire Sente La capisce Non lo so Allora Kagami Forse è quella Più Palese Come si potrebbe Comunque Ricollegare In qualche modo Perché ve l'ho detto Con la madre Luca Non saprei Cioè Può essere pure Che si ricollegherà In qualche modo Perché Giulega Comunque Dovrà ricevere Il Miraculous Della Tigre Ma Luca Onestamente Non so Comunque ragazzi Io concludo questo video Oh Devo dire che mi sono piaciuti Mi sono piaciuti Tutti e due Questi due episodi E mo' sono curiosa Di vedere Sampato Che esce Game of Lies No Game of Secret Che è stato di Lies Sì Scusate Mi sono piaciato i titoli Va bene Gli occhi Si concludo questo video Spero che il video Vi sia piaciuto Come al solito Se vi è piaciuto Lasciate un bel commento E un mi piace Iscrivete al canale E seguite su tutti i veri social Che come al solito Donate il link in descrizione Noi ci vediamo al prossimo video E ovviamente mi raccomando Continuerà sempre A fondamizzare il mondo Ciao